Un applauso per tutti voi, Gigliano sempre numero uno e questa è tradizione, bisogna fare tutte e due le mani a zero. Con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, er verschicka, er verschicka! Inshow this room is the place. The place is open! La pasta! La pasta! La pasta! Non lo sentimo bene! La pasta! La pasta! E adesso ci siamo! Yeah! La pasta! Pronto! La pasta! La pasta! Giuliano! Parese! Oh yeah! La pasta! La pasta! La pasta!